Con la testa divisa tra campo e aule di tribunale per la vicenda calcio scommesse, l'Aquila Calcio inizia da Pistoia il girone di ritorno del campionato di Lega Pro. In Toscana la truppa aquilana cercherà di mettere altro fieno in cascina per ammortizzare la penalizzazione in classifica che arriverà a seguito della sentenza di primo grado sull'inchiesta calcio scommesse prevista per l'inizio della prossima settimana. Non sarà facile a livello psicologico tenere la mente sgombra dai pensieri giudiziari, ma il tecnico rosso-blu Carlo Perrone è fiducioso. Certo questo pronunciamento è risultato a tutti eccessivo. Ci ha fatto sicuramente per un attimo, ci ha scosso, perché comunque sentire 32 punti ti prende un colpo. Però poi siamo consapevoli che alla fine dei conti sicuramente i punti saranno molti ma molti di meno. La società ci ha dimostrato il suo affetto e la sua vicinanza, quindi noi come gruppo che andrà in campo siamo consapevoli che dobbiamo cercare di fare più punti possibili il prima possibile. Ma questo lo sapevamo pure prima. Però adesso ci sono meno partite, e quindi forse il fatto che c'è questa mannaia che potrebbe caderci sulla destra forse ci potrebbe dare anche qualcosa in più a far sì che questa squadra sbagli di meno. Lo spirito comunque è buono. Andiamo sabato a Pistoia a affrontare una squadra che è ferita, una squadra che ha una posizione classica secondo me che non rispecchia quello che hanno fatto vedere sul campo, però questo è il calcio. Quindi dovremmo essere bravi noi a cercare di non farli rialzare. Sul fronte formazione l'Aquila dovrà fare a meno in difesa degli infortunati di Mercurio, Maccarrone e Pesoli, mentre in mediana mancherà Nicolas Benzai a causa squalifica. Alla luce delle tre indisponibilità nel reparto arretrato, l'allenatore Perrone potrebbe decidere di cambiare modulo, affidandosi al 3-5-2 con Anderson, Cosentini e Bigoni a comporre il trio difensivo. In attacco si candidano ad una maglia da titolare sia a Perna che il capitano Claudio De Sousa. A difendere i pali della porta aquilana, infine, potrebbe esserci l'esordio di Francesco Scotti, arrivato nel mercato invernale dopo l'esperienza al Forlì della scorsa stagione.